Dopo la lunga scede di attentati nel Foggiano, nei primi giorni dell'anno, la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, sarà domani in prefettura per siedere il comitato straordinario per l'ordine. Stefano Corradino. Nove attentati in poco più di dieci giorni nel Foggiano. Tre bombe nel capoluogo, quattro a San Severo e due a Vieste. Azioni criminali compiute davanti agli esercizi commerciali nel cuore della notte, anche simultaneamente in luoghi diversi. All'escalation criminale dei primi giorni dell'anno contro commercianti e imprenditori si somma il traffico di stupefacenti. In un'operazione congiunta le forze dell'ordine hanno arrestato in queste ore quattro persone e ne hanno denunciate altre dieci, sequestrando, oltre alla droga, anche pistole, munizioni ed esplosivi, assegni e carte di debito. Un'impennata criminale che ha allertato il governo. Nelle prossime ore la ministra dell'Interno, Lamorgese, sarà in prefettura per presiedere un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica e ha già annunciato che nelle prossime settimane arriveranno nuove rinforze alla Questura. 50 poliziotti che contribuiranno ad intensificare l'azione di contrasto sul territorio. L'escalation di attentati ricorda la lunga scia di episodi criminali avvenuti nello stesso periodo del 2020, quando a inizio anno una dozzina di imprenditori furono vittime di intimidazioni. Esplosero addirittura bombe davanti ad attività commerciali non ancora aperte. Un avviso agli imprenditori che si apprestavano ad inaugurarle. Bombe, avvertimenti in perfetto stile mafioso, usura. Nel novembre scorso una vittima di racket e distorsione nel Foggiano decise di collaborare e di denunciare. Una delle poche, in un clima di paure e di omertà. Prestiti usurari con tassi di interessi pretesi tra il 300 e il 400% annuo. Se non paghi ti sparo, avevano ripetuto i criminali all'imprenditore agricolo pugliese.